Il Grande Fratello torna in onda con una nuova puntata ricca di colpi di scena e Nomination. Dopo il ritiro di Enzo Paolo Turchi e il ritorno di Tommaso Franchi, il pubblico si è richiamato nuovamente a votare il proprio geffino preferito, martedì 19 novembre. Quattro concorrenti sono in Nomination e in lotta per l'Immunit, Amanda Lecciso, Federica Petagna, Lorenzo Spolverato e Luca Calvani. Federica è stata nominata da ben sei concorrenti, mentre Amanda e Lorenzo hanno ricevuto meno voti. Secondo i sondaggi, Luca Calvani, il grande favorito con il 50% delle preferenze, seguito da Lorenzo Spolverato al 27%. Amanda Lecciso e Federica Petagna sono più indietro con il 14% e il 9% rispettivamente. Federica, che era entrata nella casa con grandi aspettative grazie al triangolo amoroso con Alfonso e Stefano, sembra non aver conquistato il pubblico. Il televoto non sarà eliminatorio, ma i dati dei sondaggi non sono positivi per il suo futuro nella casa di Cinecit. La tredicesima diretta stagionale del Grande Fratello promette emozioni e colpi di scena. Chi sarà il concorrente che otterrà l'Immunit e chi rischier l'eliminazione. Non perdere l'appuntamento su Canale 5 per scoprire tutti i dettagli e seguire l'evoluzione della situazione nella casa pispiata d'Italia. Resta aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip, iscrivetevi al nostro canale.